I brividi non sono mancati, come la voglia a fine partita di rivendicare che si sarebbe meritato di vincere. I gol invece sono arrivati, anche se solo due, rispetto alla molle di occasioni mancate dall'una e dall'altra parte. Ancona-Lecce, big match che taglia il nastro del girone di ritorno, alla fine è finito in parità. Un tempo dominato a testa e un 1-1 che mantiene intatta la vetta della classifica. Lecce avanti con due punti sull'Ancona. Entrambe però escono con una convinzione, possono andare in Serie A. In formazione tipo e con Mastro Nunzio che festeggia le 100 presenze in campionato con la maglia d'orica, l'Ancona parte meglio e chiude nella sua metà campo il Lecce. Al decimo sbuca in aria la testa di Colacone a deviare una punizione di Miramontes, ma Rosati non ha problemi a bloccare. Un po' sorpreso invece il portiere ospite lo è sul piatto destro al volo di Surraco, che devia in corner. Al ventunesimo Colacone prova ad aggirare Rosati ma è il numero uno del Lecce, si allunga e chiude la porta. Al trentaseiesimo crossa da sinistra di Zavagno e Mastro Nunzio in spaccata mette alto a pochi passi dal colpo grosso. Il Lecce si fa notare al quarantaquattresimo con doppia conclusione di Fabiano e Vives che esaltano i riflessi di Da Costa. Alla fine il tapina di Fabiano è fermato dalla bandierina del guardaline. Con il primo tempo finisce anche la spinta dell'Ancona, che avrebbe meritato il vantaggio. Nella ripresa infatti il Lecce a partire in quarta. 16 secondi appena e un diagonale di Corvia scalda i guantoni di Da Costa. Al quindicesimo il vantaggio. Mesba apre su Corvia che ha defilato sulla destra colpisce il palo con una gran conclusione. Il pallone torna in campo e proprio sui piedi di Mesba che insacca. L'Ancona subisce il colpo. Al diciottesimo altro crossa da sinistra e Corvia deviene a lungo. Da Costa è attento e accompagna il pallone sul palo. Altri quattro minuti e la storia si ripete ma stavolta Corvia si mangia un gol praticamente fatto. Finalmente l'Ancona si scuote e Schiattarella rileva sul racco al ventisettesimo. Si esibisce in un cross col contagiri per la testa di Miramontes che dimenticato da Angelo rimette il big match in parità. Adesso la gara si accende dall'una e dall'altra sponda fino all'ultimo minuto di recupero nel quale si vive la sintesi di questo Ancona Lecce. No look di Schiattarella per l'inserimento di Mastro Nunzio che a tu per tu con Rosati gli calcia sul corpo e poi sulla ribattuta la difesa del Lecce alza il muro. Capovolgimento di fronte e mali lungo. In sospetto fuori gioco si fa ipnotizzare da Da Costa. Finisce 1-1 con sospiro finale. In fondo il pareggio è l'unico risultato giusto in una gara così equilibrata nell'economia generale. In Casancona però il sorpasso è rimandato.